Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Mirko Brunetti ha deciso di mettere definitivamente fine alla sua storia con Perla Vattiero, togliendo il segui dal suo profilo Instagram. Questo gesto potrebbe sembrare insignificante, ma per i fan dei Perletti, che speravano in un ritorno di fiamma, è un segnale importante. La notizia della rottura tra i due è emersa ad agosto di quest'anno e molti avevano sperato che il loro rapporto potesse essere salvato. Tuttavia, sembra che abbiano raggiunto il punto di non ritorno, con l'unfollow da parte dell'imprenditore Rietino, che è arrivato dopo che l'influencer aveva smesso di seguirlo sui social circa due settimane fa. Il motivo di questa rottura sembra essere legato al fatto che Mirko si sia incontrato di nuovo con la sua ex, Greta Rossetti, alla festa di compleanno dello chef Federico Fusca. Nonostante la freddezza tra i due, Perla ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta live su Instagram, sottolineando l'importanza di Brunetti nella sua vita. La fine della storia tra Mirko Brunetti e Perla Vattiero sembra essere definitiva, con entrambi che si sono rimossi il follo sui social. Questo è un duro colpo per i fan che speravano in una riconciliazione, che sembra non avverrà. Tuttavia, Perla ha assicurato che Mirko rimarrà sempre una persona importante per lei, definendolo uno degli uomini più significativi della sua vita dopo suo padre. Nonostante la fine della loro relazione, i fan continuano a sognare una possibile riappacificazione tra i due. Tuttavia, al momento sembra che la parola fine sia stata davvero scritta tra Mirko Brunetti.